Il progetto Cosi4U nasce per difendere il diritto al turismo per tutti, anche per i disabili. Un team di professionisti garantisce la piena accessibilità alle bellezze archeologiche, culturali e naturali inserite in percorsi turistici sostenibili, anche economicamente, senza costringere i viaggiatori di improbabili ricerche amatoriali sul web. Anche Napoli e la Campania si sono attivate per rendere più confortevoli le visite culturali a chi ha problemi nel muoversi agevolmente. Un'iniziativa importante soprattutto dal punto di vista culturale, come sottolinea Eleana Esposito, presidente dell'associazione Paypal. La barriera architettonica è ancora il nemico da abbattere. Il turismo è uno di quegli ambiti in cui noi contiamo molto, perché è un motore economico per tutta la regione. E quindi noi ci auguriamo che nell'ambito di queste iniziative che vengono intraprese da delle istituzioni, si incominci a porre attenzione anche al turismo accessibile, che è un turismo che non deve essere soltanto un turismo accessibile ai disabili in senso stretto, ma a tutte le persone che hanno dei bisogni speciali, come anziani, come obesi, come persone che hanno delle disabilità alimentari. Il comune di Napoli si dimostra sensibile verso questo tipo di progetti, che giungono in un momento felice per il turismo napoletano. Ascoltiamo l'assessore Nino Daniele. Permette di sottolineare il particolare valore di questo progetto, che tra l'altro ci pone come città in qualche modo all'avanguardia su una frontiera così importante dal punto di vista culturale e civile. Io dico sempre che allargare la frontiera della conoscenza vuol dire innanzitutto allargare la frontiera dei soggetti conoscenti e quindi dare opportunità anche a chi è differentemente abile per poter in modo confortevole e accessibile scoprire i tanti risvolti meravigliosi di questa nostra città, anche dal punto di vista dell'accumulo dei valori umani e civili e del portato di tante civiltà, per noi davvero molto significativo.